Questo straordinario laboratorio che si trova nel mio quartiere, aspetta, aspetta, i signori sono peruviani e lui, premetto, recentemente Carlo Verdone in un'intervista ha detto ogni bene. Grazie Carlo, sta nel mio cuore. Giorni fa lui è stato nel Peru, allora io gli ho chiesto cortesemente attraverso loro, attraverso Whatsapp, di chiedere, di il tuo nome. Ma sono Edoardo e furvio amico mio mi ha chiesto. Sì, vabbè, vabbè, gli ho chiesto se cortesemente poteva recuperare per me un'immagine di una santa dei poveri di Lima, Sarita Colonia. Mostra l'immagine e spiega chi è, Sarita Colonia. Sarita Colonia, al di là che siano una santa dei poveri, anche erano una santa delle persone che andavano in galera, perché lei le assistiva e questa è la vera storia di Sarita Colonia. Eccolo qua. Io ti ringrazio, io ho scoperto Sarita Colonia attraverso un artista italiano, Mario Mariotti, che aveva realizzato con delle latte, di quelle che custodivano il latte in polvere, un grande mosaico in un deserto fuori Lima, che riproduceva la sua immagine. Mi dicevano anche che Sarita Colonia ha il potere di rendere invisibili i ladri, è vero questo? È giusto, ti stavo dicendo che erano delle persone che si prendeva a cura delle persone che andavano in galera, cioè ci teneva, ci aiutava, ci curava anche, pure tante volte, come ti ripeto, come ho detto, le facevano sparire. E anche le prostitute. No, era una santa per tutti, cioè lei non guardava ragione, religione, cioè non guardava nulla, faceva al suo cuore quello che le diceva. Dove siamo? In Perù dove? In che stato del Perù? Sempre a Lima, dalla provincia, si chiama Cagliau. Cagliau, esattamente. Lei nasce nel 14? No, disse il primo marzo del 1914, all'anno, sì giusto. E muore nel 41. Nel 40. Nel 40. 20 dicembre del 1940. Il giorno che sono nato io, mostriamo l'immagine. Grazie Edoardo. Te lo do con tutto il mio cuore, amico mio.